Un tragico incidente è accaduto questa mattina attorno alle ore 11.30 sulla linea ferroviaria Bari Nord nel territorio di Corato. Uno scontro frontale tra due treni, uno proveniente da Andria e l'altro che aveva da poco abbandonato la stazione di Corato. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato e l'ambulanza del 118 ci sono feriti. Saranno resi noti ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.